E venendo dalla fiera, dalla piazza Carlo Alberto, eccola qui, buongiorno, posso entrare? Ma che bello, grazie. La trovi proprio qua, formaggi Zappalà, salumi in quantità, se c'è chi trovi là, è la salumeria dei fratelli Zappalà. E c'è la simpatia, a pranzo puoi mangiare, tu vacci in compagnia, che poi ci vuoi tornare. Salumi in quantità, se c'è chi trovi là, è la salumeria dei fratelli Zappalà. E c'è la simpatia, a pranzo puoi mangiare, tu vacci in compagnia, che poi ci vuoi tornare. Se cerchi qualità, al centro di città, la trovi proprio qua, formaggi Zappalà, salumi in quantità. E c'è chi trovi là, se c'è chi trovi là, è la salumeria dei fratelli Zappalà. E c'è la simpatia, a pranzo puoi mangiare, tu vacci in compagnia, che poi ci vuoi tornare. Salumi in quantità, se c'è chi trovi là, è la salumeria dei fratelli Zappalà. E la salumeria dei fratelli Zappalà. E la salumeria dei fratelli Zappalà.